Solo una cosa, andiamo avanti Presidente. Presidente, andiamo avanti. Mai indietro. C'è rimasto male Presidente, solo questo le volevo chiedere. Ma non tanto è solo per me, questa svolta così autarchica credo sia una mortificazione per un'intera comunità che io ho conosciuto bene e ho apprezzato di ragazze e ragazzi persone adulte che hanno creduto in certi ideali è una grande mortificazione per tutti loro. L'informazione di La Press è sempre a casa tua. Metti like a questa news e iscriviti al canale. Grazie. Grazie.